Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Jonathan Hacker. 3 ottobre. Quando il dottor Van Helsing e il dottor Seward sono tornati, dopo aver visto il povero Rainfield, ci siamo seriamente consultati su ciò che bisognava fare. Prima il dottor Seward ci ha raccontato che lui e Van Helsing, quando erano scesi nella stanza di Rainfield, l'avevano trovato rattrapito sul pavimento, il volto contuso e ferito, e l'osso del collo spezzato. Il dottor Seward ha chiesto all'infermiere di servizio nel corridoio se avesse sentito qualcosa. L'uomo ha risposto che, mentre se ne stava a sedere lì, in una specie di dormiveglia, l'ha ammesso. Aveva udito delle voci concitate nella stanza, e poi Rainfield, che gridava ripetutamente «Dio, Dio, Dio!» Era seguito il tonfo di una caduta e, quando l'infermiere era entrato nella stanza, aveva visto che Rainfield giaceva sul pavimento, a faccia in giù, nella posizione in cui l'avevano poi trovato i medici. Van Helsing gli ha domandato se avesse sentito voci, oppure una voce sola, ma l'uomo ha risposto che non era in grado di dirlo. Da principio gli era sembrato che le voci fossero due, ma poiché non c'era nessun altro, nella stanza non doveva essercene stata che una, ed era pronto a giurare, se necessario, che la parola «Dio» era stata pronunciata dal paziente. Il dottor Seward ci ha detto, quando eravamo soli, che non aveva voluto approfondire la questione. Occorreva tenere presente la possibilità di un'inchiesta, e non sarebbe stato opportuno esporre la verità a cui nessuno avrebbe creduto. Stando così, le cose pensava di poter estendere, basandosi sulla testimonianza dell'infermiere, un certificato di morte accidentale causata da una caduta dal letto. Se poi il coroner l'avesse voluto, ci sarebbe stata un'inchiesta formale, che necessariamente sarebbe giunta allo stesso risultato. Quando abbiamo cominciato a discutere su quale dovesse essere la nostra prima mossa, abbiamo subito deciso che Mina doveva essere informata di tutto. Non bisognava più tenerle nascosto niente, neppure un particolare, per penuso che potesse essere. Van Helsing, che fino a quel momento era stato seduto, si è alzato per avvicinarsi a lei, e posandole una mano sul capo le ha detto —Bambina mia, questo amico esiste, se era per vostro bene. Quanto a me, io posso aiutare vostra eutanasia e trovare giustificazione di essa davanti a Dio anche in questo momento, se era la cosa migliore. No, se era la salvezza. Ma, bambina mia, per un attimo è perso, soffocato dal gran singhiozzo, che gli saliva alla gola, ma è riuscito a dominarsi e ha proseguito. Qui sono uomini, pronti a mettersi tra voi e morte. Voi non dovete morire, non dovete morire per mano di nessuno, e meno che mai per mano vostra, finché l'altro, che ha insozzato vostra dolce vita, non è veramente morto. Voi non dovete morire, perché se lui è ancora un non morto, vostra morte farebbe voi come lui. No, voi dovete vivere, voi dovete lottare per vivere, sforzarvi di vivere, anche se morire sembra a voi un bene, indicibile. Voi dovete combattere contro morte stessa, anche se viene a voi in dolore o in gioia, di giorno o di notte, in sicurezza o in pericolo. Per vostra anima vivente, io impongo voi di non morire, no, di non pensare nemmeno di morire, finché questo grande male è passato. La mia povera cara era diventata pallida come una morta, e tremava e rabrividiva come io ho visto la sabbia tremare e rabrividire all'avvicinarsi dell'alta marea. Tutti stavamo in silenzio, incapaci di pronunciare una parola. A poco a poco Mina si è calmata e rivolgendosi a lui, ha detto con dolcezza, ma anche con... con tanto... dolore, mentre gli tendeva la mano. Vi prometto, mio caro amico, che se Dio mi concederà di vivere, io lotterò per la vita, finché, quando Egli lo vorrà, questo orrore non sia stato allontanato da me. Era tanto coraggiosa e buona che tutti abbiamo sentito rafforzarsi nei nostri cuori la determinazione di agire, lottare e sopportare per amor suo. E abbiamo cominciato a discutere su ciò che bisognava fare. Io ho detto a Mina che doveva mettere tutti i documenti in cassaporte con tutte le carte, i diari e le registrazioni fonografiche che in seguito ci potevano essere utili e che lei doveva tenere il suo diario come aveva sempre fatto. La prospettiva di avere un'occupazione la rallegrata, se rallegrata è un aggettivo che si può adoperare, riferito a una circostanza così penosa. Come al solito, Van Helsing ci aveva preceduti tutti con il pensiero e aveva già preparato un esatto piano di azione. Forse è stato bene, ha detto, che durante nostra riunione, dopo che abbiamo visitato Carfax, abbiamo deciso di non fare nulla con casse di terra che sono là. Se lo facevamo, il conte poteva indovinare il nostro proposito e senza dubbio allora prendeva provvedimenti in anticipo per frustrare i nostri tentativi su altre casse, ma adesso lui non conosce nostre intenzioni. No. C'è anche altro. Con tutta probabilità non sa che esiste per noi questo potere di sterilizzare sue tane così che lui non può più usare esse come prima. Adesso noi siamo molto più avanzati in nostra conoscenza su loro posizione, così che dopo che abbiamo esaminato casa di Piccadilli forse possiamo rintracciare fino l'ultima di esse. La giornata di oggi dunque è nostra e in essa riposa nostra speranza. Il sole che sorge questa mattina su nostra sofferenza ci protegge nel suo corso. Finché non tramonta questa sera il mostro deve mantenere la forma che ha adesso qualunque che è. Lui è confinato in limiti del suo involucro terrestre. Non può dissolversi in aria a fine né scomparire attraverso fessure, interstizi o crepe. Se vuole oltrepassare una soglia deve aprire la porta come un comune mortale. quindi noi oggi dobbiamo scoprire tutte sue tane e sterilizzarle così se noi non abbiamo già preso e distrutto lui lo spingiamo a fermarsi in un posto dove poi prenderlo e distruggerlo sarà cosa sicura. A questo punto io mi sono alzato in piedi. Non riuscivo più a controllarmi all'idea che i minuti e i secondi essenziali per la vita e la felicità di Mina trascorressero così in discorsi quando invece avremmo potuto agire. Ma Van Helsing ha alzato una mano in un gesto di ammonimento. No, amico Jonathan, ha detto. In nostro caso la via più lunga per arrivare a casa è la migliore, come dice vostro proverbio. Noi agiremo tutti e agiremo con disperata velocità quando viene il momento. Ma pensate, voi, con ogni probabile la chiave di situazione è in quella casa di Piccadilly. Può essere che Conte ha comperato molte case e che in esse ha documenti di acquisto, chiavi e altre cose e anche il suo libretto di assegni e sua carta da lettere sono molte sue cose che lui deve tenere in qualche parte. E perché non in questo posto così centrale e tranquillo dove lui va e viene a qualunque ora da porta principale o dietro e dove è tanto traffico così che nessuno lo nota. Noi andremo in questa casa a frugare e quando sappiamo quello che contiene e allora facciamo quello che il nostro amico Art in suo linguaggio di cacciatore chiama bloccare la tana e catturiamo nostra vecchia volpe così. Non è vero? Allora andiamoci subito ho esclamato io. Stiamo perdendo del tempo preziosissimo senza muoversi il professore ha semplicemente detto e come entriamo in quella casa di Piccadilly? In qualsiasi modo ho gridato io scassinando la porta se si si occorre e vostra polizia? Dov'è essa? E che cosa dirà? Sono rimasto sconcertato ma sapevo che per voler rimandare l'azione Van Helsing aveva di certo un valido motivo perciò ho risposto con tutta la calma possibile almeno non tardiamo più del necessario voi sapete ne sono certo in quale stato di angoscia io mi trovi figliolo mio certo che so e in realtà non desidero aggravare vostro tormento ma pensate soltanto che cosa possiamo fare finché c'è tanto movimento dopo verrà nostro tempo io ho riflettuto tanto riflettuto e sembra a me che la via più semplice è meglio ora noi vogliamo entrare in quella casa ma non abbiamo chiave non è così io ho annuito supponete adesso che siete voi il vero proprietario di quella casa ma lo stesso non potete entrare e pensate anche che voi non avete mentalità di scassinatore che cosa fate voi allora? mi rivolgerei a un fabbro onesto per fargli aprire la serratura e vostra polizia in questo caso non interviene no se sapesse che il fabbro è un uomo per bene regolarmente ingaggiato allora e parlando mi osservava con occhi penetranti in dubbio resta solo la coscienza di chi ha ingaggiato il fabbro e il giudizio di vostri poliziotti sulla coscienza di quest'uomo se è buona o cattiva vostra polizia deve avere agenti premurosi intelligenti o tanto intelligenti a leggere nella mente che si preoccupano di queste cose no no amico Jonathan voi andate a spaccare serrature di cento case vuote in questa vostra Londra o in tutte altre città del mondo e se fate queste cose nel mondo che vanno giustamente fatte e nel tempo che vanno giustamente fatte nessuno interferisce ho letto di gentiluomo che possedeva così bella casa in vostra Londra ed è andato per mesi di estate in Svizzera e ha chiuso sua casa ma è venuto un ladro e ha spaccato finestra sul retro ed è entrato dentro poi ha aperto in poste sul davanti andava e veniva proprio sotto gli occhi della polizia poi lui ha messo all'asta la casa ha fatto annuncio ha esposto grande cartello e quando è venuto il giorno un famoso banditore ha venduto all'asta tutti i beni che l'altro uomo possedeva poi è andato da un costruttore e ha venduto a lui la casa con l'accordo che doveva essere abbattuto e tutto portato via entro un certo tempo e vostra polizia e altre autorità hanno aiutato lui meglio che potevano e quando il proprietario è tornato da sue vacanze in Svizzera ha trovato solo un buco vuoto dove era stata sua casa tutto era stato fatto a reg e in nostro lavoro saremo a reg anche noi non andiamo tanto presto così che poliziotto che ha poco da pensare gli sembra strano ma andiamo dopo le dieci quando è tanta gente in giro come un vero proprietario della casa farebbe queste cose non mi restava che riconoscere quanto avesse ragione e perfino il viso terribilmente angosciato di Mina si era serenato un poco in questi saggi consigli c'era un barlume di speranza Van Helsing ha proseguito quando una volta che siamo dentro in quella casa possiamo scoprire altri indizi in ogni modo qualcuno di noi può restare lì mentre gli altri trovano altri posti dove ci sono più casse di terra a Bermond's Day e Mile End Lord Godelming si è alzato a questo punto posso essere di qualche utilità telegraferò al mio personale di tenere a nostra disposizione cavalli e carrozze nei luoghi più convenienti per noi senti vecchio mio è intervenuto Morris è una magnifica idea quella di avere pronti dei cavalli nel caso che volessimo adoperarli ma non credi che una delle tue eleganti carrozze con tanto di stemma attirerebbe troppa attenzione per i nostri desideri in un vicolo di Walworth o di Mile End secondo me dovremmo servirci di veicoli a Nolo per andare a sud e a est e lasciarli in qualche posto nelle vicinanze del quartiere in cui ci richiamo ha ragione amico Quincy ha dichiarato il professore sua mente è come si dice molto in equilibrio è lavoro difficile che dobbiamo fare e non vogliamo che ci guarda nessuno se è possibile ci siamo poi messi a discutere su quale ordine dare alla nostra azione su come suddividere le nostre forze e sono sorti nuovi dubbi infine ci siamo accordati abbiamo deciso di distruggere la tana più vicina del conte prima di andare a Piccadilly qualora egli se ne fosse accorto troppo presto saremo stati comunque in anticipo su di lui nella nostra opera di distruzione e la presenza del conte sotto il suo aspetto puramente materiale quindi nel momento della sua maggiore debolezza forse ci avrebbe fornito qualche nuova pista quando alla disposizione delle forze il professore ha suggerito che dopo la visita a Carfax entrassimo tutti nella casa di Piccadilly i due medici e io vi saremmo poi rimasti mentre Lord Godelming e Quincy sarebbero andati in cerca dei rifugi di Walworth e My Lane e li avrebbero distrutti era possibile se non probabile ha osservato il professore che il conte comparisse a Piccadilly durante la giornata in tal caso avremmo potuto affrontarlo subito in ogni modo saremmo stati in grado di seguirlo tutti insieme io mi sono opposto energicamente a questo piano almeno per quanto riguardava la mia partecipazione perché io e l'ho dichiarato intendevo rimanere a proteggere Mina credevo di essere assolutamente deciso su questo punto ma Mina non ha accettato le mie obiezioni ha sostenuto che poteva sorgere qualche questione legale in cui io avrei avuto modo di rendermi utile che tra le carte del conte poteva esserci qualche indizio comprensibile per me data la mia esperienza in Transilvania e che in simili circostanze tutte le forze che potevamo raccogliere erano necessarie per fare fronte agli straordinari poteri del conte ho quindi dovuto cedere perché la risolutezza di Mina era inflessibile il fatto che operassimo tutti insieme ha dichiarato era per lei l'ultima speranza quanto a me ha aggiunto non ho paura non può accadere nulla di peggio di quanto è già accaduto e qualunque cosa accada dovrà avere in sé almeno un elemento di speranza e di conforto va marito mio se lo vuole Dio può proteggermi sia nella mia solitudine sia in presenza di chiunque io mi sono alzato esclamando allora per amore di Dio partiamo subito perché stiamo perdendo tempo il conte potrebbe andare a piccadilli prima di quanto crediamo noi non così ha detto Van Helsing alzando una mano ma perché gli ho chiesto dimenticate voi forse ha risposto e sorrideva proprio che questa notte lui ha banchettato pesantemente e dunque dorme fino a tardi è stata una strana colazione per tutti noi ci siamo sforzati di apparire allegri e di farci coraggio a vicenda e Mina era la più vivace e la più gaia Van Helsing si è alzato dicendo ora cari miei amici noi ci accingiamo a nostra terribile impresa siamo tutti armati come eravamo quella notte che abbiamo visitato per prima volta la tana di nostro nemico armati contro attacco di fantasma come contro attacco fisico tutti lo abbiamo rassicurato bene allora e madammina voi siete in ogni caso completamente al sicuro qui fino a tramonto e prima di esso noi torniamo se noi ritorniamo ma prima di andare lasciate che io vedo voi armata contro attacco personale io stesso dopo che voi siete scesa ho preparato vostra camera mettendo in essa le cose che noi sappiamo così che lui non può entrare ora lasciate che io proteggo voi stessa io tocco vostra fronte con questo pezzetto di ostia consacrata nel nome del padre del figlio e si è elevato un grido spaventoso che ci ha quasi gelato i cuori non appena ha sfiorato la fronte di Mina l'ostia l'ha ustionata bruciandone la carne come se fosse stato un pezzo di metallo rovente il cervello della mia diletta le ha rivelato subito il significato dell'evento contemporaneamente a dolore fisico trasmessoli dai nervi e ne è stata talmente sopraffatta che il suo stato di eccessiva agitazione è esploso in quel grido terrificante ma presto le parole sono venute a dare voce al suo pensiero l'eco del grido risonava ancora nell'aria quando è sopravvenuta la reazione e Mina è crollata sul pavimento in ginocchio tormentata dall'umiliazione tirandosi i vei capelli sul viso come un tempo faceva il lebroso con il mantello appreso a lamentarsi immonda immonda perfino l'altissimo rifugio dalla mia carne contaminata dovrò portare questo marchio di infamia sulla fronte fino al giorno del giudizio tutti sono rimasti immobili io mi ero gettato accanto a lei travolto da un disperato impotente dolore la stringevo forte tra le braccia per qualche minuto i nostri cuori colmi d'angoscia hanno battuto insieme mentre gli amici da cui eravamo circondati distoglievano da noi gli occhi pieni di lacrime silenziose poi Van Helsing si è voltato e ha detto con gravità con tanta gravità da darmi l'impressione che fosse in qualche modo ispirato come se attraverso la sua bocca parlasse una voce al di fuori di lui può essere che voi dovete portare questo marchio finché Dio stesso crede opportuno come egli certamente farà nel giorno del giudizio quando ratrizza tutti i torti del mondo e dei suoi figli da lui posti sulla terra oh madammina mia cara carissima noi che vi amiamo io spero che saremo lì a vedere quando quella cicatrice rossa il segno che Dio sa quello che è stato scompare e lascia vostra fronte pura come il cuore che noi conosciamo perché sicuro come che noi viviamo quella cicatrice svanirà quando Dio giudicherà giusto di sollevare il peso che su noi grava fino allora noi portiamo nostra croce come suo figlio ha fatto in obbedienza a sua volontà può essere che noi siamo strumenti scelti secondo che a lui piace e che dobbiamo ascendere al suo cenno come quell'altro attraverso sversate e vergogna attraverso lacrime e sangue attraverso dubbi e paure tutto quello che fa la differenza tra Dio e uomo di sollevare di sollevare di sollevare Grazie a tutti